Ok, non stavo finendo. Jeb, jeb, sinistro, destro. Entra dentro la sua guardia. Puoi asciugare? Dai, entra dentro la sua guardia. Lui vuole la corta a distanza. Dritto, così. Copriti, copriti. Copriti, copriti. Entra dritto. Dritto, dritto. Esci a sinistra, esci a sinistra o a destra. Esci a sinistra o a destra. Non stare sempre dritto. Muovi il tronco, bravo. Muovi il tronco e due montanti, dai. Dai, dai, dai. Muovi il tronco e due montanti. Vai, montante a destra e a sinistra. Ora, come ti tocca? Come ti tocca? Parti. Come ti tocca? Più dentro. Più dentro. Più dentro, Massi. Più dentro. Fagli sentire. Entra colpi tutti. Fagli sentire dritto da lontano. Dai. Così. Uno, due. Passo indietro. Massi, uno, due. Passo indietro. Dai. Massi, non restare sui colpi. Uno, due. Passo indietro. Massi, uno, due. Massi, sei troppo attento. Attento. Stai prendendo colpi che non devi prendere. Stai prendendo colpi che non devi prendere. Uno, due. Passi indietro e rientra. Vai indietro. Vai indietro. Non entra quel gancio. Non entra. È troppo largo. Deve entrare in diretto. Veloce, quindi, colpi. Massimo, parti. Se no, parte solo lui. Uno, due. Veloce. E poi ti sposti. E via. Ti devi spostare dopo. Massimo, uno, due. Te ne devi andare. Te ne devi andare. Massimo, uno, due. Te ne devi andare di lato. Te ne devi andare. Laterale. Con il perno. Postando le sue mani. Giù, veloce. Le braccia più lunghe. Stai lontano. Non fate avvicinare così. Forza, Massimo. Uno, due. Vai. Ecco, perno così. Dai. E poi rientra. Esci di lato. Quello andava benissimo. Dai. Riprovi. No, troppo largo. Troppo largo. Dritti. Dritti, Massimo. Dritti, veloce. Uno, due. Che entra? Dai che entra. Attento al destro. Attento al destro che non c'hai. Non hai il destro al piso. Massimo, uno, due. Dritti, dritti, stretti. Dritti, sinistro, destra, veloce. Hai le mani basse. Così. Destro e sinistro ora. Da lontano. Dai, dritto il destro. Se rimandi lì, prendi i colti. Spostati. Vai, destro e gancio. Dai. Vai, destro e gancio. Vai. Trova la distanza. Vai ora, sotto. Destro e gancio, Massimo. Non aspettare che parta lui. Parti prima tu. Se non ne prendi. Montante destro da lì. Montante destro da lì. Da lì. Montante destro e gancio finito. E fai il gancio. E fai il gancio. Ho detto montante destro, ok. Questo devi fare. Vai subito. 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 Perché il destro è staccato? Parti. Parti subito. Prima di lui. Parti. Parti. Veloce, uno, due. Dai che sta finendo. Copriti. Esci, esci. Uno, due schifate a circolare. Esci a sinistra. Tira su una mano. Dai. Dritto. Entra dentro la guarda quel jab. Ci arriva. Visto che ci ha arrivato prima di lui. Le braccia più lunghe. Dai. Poi anche il destro. Il destro l'ha attaccato. Il destro è attaccato quando fai il jab. Uno, due veloce. Montante destro da lì. Entra subito. Montante destro. Guarda che non l'ha capito. Partivi prima di lui. Tira poi montante destro. Non gancio destro. Non gancio destro. Montante destro. Questo. Quello devi fare. Quello. Così. Ancora. Tre colpi. Vai. Tre colpi. Stai chiuso. Tre colpi. Vai. Tieni su le mani. Tieni su le mani. Vai. Vai. Uno, due. Forza. Lavora. Se non lavori tu lavora lui. Lavora col montante. Montante adesso è il canto finito. Vai. One more. One more. One more. One more.